buonasera a tutti da marina di stefano siamo qui con una nuova ricetta della salute e questa sera vi parlerò di una ricetta davvero davvero molto semplice da realizzare ma ottima per il nostro stato di benessere si tratta di un centrifugato di pomodoro allora andiamo subito con gli ingredienti naturalmente sempre diciamo due bicchieri belli pieni che possono essere utili per per quattro persone allora abbiamo bisogno di 400 grammi di pomodori ramati quindi belli belli rossi poi succo di limone tabasco sale e pepe andiamo a vedere la realizzazione lavate con cura i pomodori asciugateli privateli del picciolo e dei semi tagliateli poi a tocchetti e metteteli in una centrifuga una volta ottenuto un centrifugato omogeneo versatelo nei bicchieri conditi con sale pepe succo di limone e qualche goccia di di tabasco mescolate bene e servite subito e adesso andiamo a vedere le qualità intrinseche che questo semplice ma meraviglioso prodotto della natura che il pomodoro è in grado di fornirci e quindi ricordiamo che il pomodoro ha pochissime calorie e un significativo contenuto di vitamina c e potassio e ha naturalmente benefici effetti antiossidanti e depurativi allora abbiamo concluso con la nostra ricetta della salute e un buonasera e un ringraziamento da parte di marina di stefano